Ogni giorno in Europa muoiono per arresto cardiaco improvviso un numero di persone pari ai passeggeri trasportati da due jumbo jet. In Italia si stima che vi siano oltre 15 milioni di persone a rischio, obesi, pertesi, cardiopatici, diabetici, persone che hanno effettuato interventi al cuore. Oggi si celebra in tutto il mondo il World Restart Heart Day, la giornata mondiale di sensibilizzazione sul tema dell'arresto cardiaco. Ma questa settimana ricorre anche Viva, la settimana per la rianimazione cardiopolmonare. Solo intervenendo entro i primi 3-5 minuti dall'evento si hanno alte speranze di salvare una vita. In questo arco di tempo difficilmente però i soccorritori esterni riescono a essere sul posto. Ecco perché è fondamentale che sul territorio siano già presenti defibrillatori semi-automatici. Posizionare defibrillatori automatici, cioè che intervengono e che funzionano praticamente senza l'intervento dell'uomo, ma l'uomo serve solamente per attivare l'apparecchio, utilizzare l'apparecchio e che ci permette di salvare vite. Ma non abbiamo solamente il defibrillatore semi-automatico da distribuire sul territorio e da fare utilizzare la popolazione generale. È un giubbotto che ha la funzione del defibrillatore che si veste, che si indossa per un certo numero di tempo, non particolarmente lungo perché questo tipo di terapia è una terapia ponte per arrivare alla decisione se impiantare o non impiantare un defibrillatore in modo definitivo, cioè all'interno del nostro organismo. Grazie a tutti.